Il tappeto di Caterina abbraccia l'autismo, 1700 mattonelle tutte lavorate a mano, ai ferri, all'uncinetto, in tinta unita, bianca e colorate, vario pinte. Questa domenica hanno coperto di colore il centro storico di Bienno. Ogni mattonella ha una storia, ogni mattonella ha un aiuto concreto a spazi, autismo e servizio che in Valle Camonica segue i ragazzi con questi problemi e le loro famiglie. E' sostenuto anche dal fondo Sara Pedersoli che prima di partire verso il cielo ha voluto lasciare il suo impegno per suo figlio. La sua eredità è stata raccolta anche da altre associazioni. Il tappeto di Caterina nasce infatti dall'omonima associazione di Bienno dove il marito di Sara vive che prende il nome di Caterina Comensoli, su Orgel Trude, la santa di Bienno. Lo che diceva amore vuol dire presenza, ecco perché noi siamo presenti oggi con questa iniziativa che abbiamo voluto fortemente per dare una mano a una tematica che è molto importante per i nostri bambini e per il nostro futuro. L'iniziativa è partita lo scorso anno bloccata dal lockdown, si è conclusa oggi intanto 1700 donne hanno lavorato e mandato le loro coperte, le loro opere d'arte. Chi le ha acquistate ha avuto il sacchetto personalizzato e la certificazione del fatto a mano. Sono una più bella dell'altra e la gente vedo che sta apprezzando veramente quest'arte tradizionale, antica del cucito, del lucinetto. Molto soddisfatti, non ci aspettavamo un'affluenza così. Bienno e l'intera Valle Camonica hanno risposto con altruismo all'iniziativa e le mattonelle sono andate a ruba. Tutto ricavato servirà per i progetti di spazio autismo ad Arfo. L'iniziativa è stata sostenuta anche dagli enti locali e dai comuni di Esine e di Bienno. Noi come comuni di Bienno abbiamo da subito abbracciato questa iniziativa che c'è stata perché purtroppo, per fortuna, abbiamo anche noi dei bambini autistici e vediamo tutti i giorni come queste famiglie, questi bambini hanno bisogno di sostegno. Quindi è sicuramente un tema che deve essere abbracciato e che deve essere portato avanti, deve essere sviluppato perché nessuno deve essere lasciato indietro. Bienno ancora una volta è al centro della Valle Camonica, non solo per l'arte stavolta, ma quest'arte legata al sociale. La comunità montana è presente proprio per queste iniziative di inclusione che sensibilizzano tutti verso l'arte, sì perché qui c'è anche arte, ma verso l'attenzione al sociale e in questo caso al mondo dell'autismo. Grazie. Grazie.